Scrivevo trent'anni fa, camminando vorrei trovare una strada. Ho già tanto cercato, sofferto, invocato. Ora vorrei trovare una strada. Non mi importa quanto sarà difficile, ma ora vorrei tanto trovare una strada. Da quel giorno ad oggi tanta acqua è passata sotto i ponti e tante gioie e dolori mi hanno accompagnato lungo il cammino della vita. Sono cresciuta ora, sono grande, ma sono ancora quella giovane donna in cerca di equilibrio e in cerca di un punto di riferimento? Sì, sono ancora lì, in un fermo immagine, con lo zainetto sulle spalle e che trascino il trolley. Davanti ai miei occhi ammiro un paesaggio bellissimo. Sono immersa nei colori del cielo, delle nuvole, delle colline, dei prati. Tra breve, lo so, arriverò a dover girare l'angolo. Grazie. 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 Grazie a tutti.